All'ospedale per un prelievo? Sì, ma questa volta si tratta di 4.000 euro in contanti rubati dal registratore di cassa del bar dell'ospedale Perino di Brindisi. Dalle indagini svolte dagli agenti della questura di Brindisi ad agire sarebbe stato un ladro che completamente solo ha eluso il sistema di allarme che agisce solo sulla porta di ingresso ed è riuscito a portare via il denaro. Le telecamere di sorveglianza piazzate all'interno del locale hanno comunque ripreso tutta la scena. Intorno alle 22.15, orario in cui i vigilanti hanno il cambio di turno per cui c'è meno controllo e questo dimostra come il ladro conoscesse ogni particolare utile al corpo, l'uomo sarebbe entrato all'interno del locale tramite una finestra a scorrimento posta su uno dei lati della struttura. Una volta entrato si sarebbe diretto al registratore di cassa prendendo il denaro 4.000 euro in contanti e ritornando alla finestra nella quale era entrato per fuggire via. Sul posto quindi la scientifica per i rilievi del caso. A scoprire il furto questa mattina alle 6.15 il gestore del bar Benito Pagliara. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della scientifica per i rilievi del caso. Ritrovati nelle vicinanze del bar una felpa con cappuccio e un paio di guanti in lattice che potrebbero essere serviti al ladro e che sono stati archiviati come prove dagli agenti.